Questa mattina siamo stati con le telecamere di TV City negli uffici dell'assessorata alla pubblica istruzione per ascoltare il vice sindaco di Torre del Greco Enrico Pensati e per fare il punto sui contagi e sulla chiusura delle scuole. C'è una questione importante, cioè quella dei contagi e delle chiusure delle scuole. Dopo questa settimana come si procederà? Innanzitutto il primo passo fondamentale è aspettare il report settimanale che ci arriverà lunedì dalla regione Campania. All'interno di quel report vi sono diversi indicatori. Il tavolo tecnico permanente voluto dal sindaco sul piano locale andrà a verificare quelli che sono gli indicatori e quindi qual è la situazione se siamo al di sotto o al di sopra di questi indicatori. Dopo aver verificato ciò attraverso il report che ci arriverà dalla regione Campania verrà presa una nuova decisione in un senso o nell'altro. Vice sindaco, qual è il momento in cui si decide per una chiusura delle scuole e chi è che la decide? Innanzitutto l'abbiamo già chiarito tante volte. Noi abbiamo la necessità di avere la trasmissione di dati ufficiali. I dati ufficiali arrivano al sindaco attraverso due autorità. Una è la regione Campania, l'altra è l'autorità sanitaria locale. Una volta che riceviamo questi dati vanno commisurati a quelli che sono gli indicatori e i parametri che ci vengono dalle diverse direttive. Se siamo al di sopra di questi parametri allora si procede verso misure di contenimento maggiormente restrittive della diffusione epidemiologica. Diversamente verranno adottate misure diverse. Dei contagi attivi attuali a Torre del Greco quanti vengono dalle scuole? Diciamo che noi abbiamo potuto constatare che in età scolare, quindi parliamo 2003-2009, attualmente come già scritto nella ordinanza di chiusura contiamo 145 contagi. Quindi chiaramente sono quelli che registriamo tra i ragazzi in età scolare. Poi da dove provengano, se sia stato il momento di aggregazione scolastica o diversamente che arrivino dal territorio, questo francamente non è allo Stato lecito saperlo né immaginarlo. Invece per la questione scuola, c'è una scuola in particolare, il Plesso Conte, dove è appena deceduta una professoressa, una maestra. C'è un focolaio lì? Da quello che ci certifica l'ASL con un documento ufficiale parla di focolaio epidemiologico nell'istituto Falcone Scauda e in modo particolare relativamente al Plesso Conte. Non a caso il sindaco ha adottato ordinanza di chiusura per 15 giorni. L'assessore alla pubblica istruzione ha sottolineato che il provvedimento di chiusura degli istituti scolastici avviene soltanto dopo un report inviato dall'ASL Campano, documento che a Torre del Greco, a quanto pare, non è mai arrivato. Molte persone si sono lamentate per la chiusura di Torre Annunziata, di Castellammare e dei ritardi per la chiusura di Torre del Greco. Cosa è successo? È successo che quello che abbiamo provato a spiegare, cioè che Torre Annunziata, ad esempio, il sindaco ha adottato l'ordinanza soltanto dopo aver ricevuto due provvedimenti. Un provvedimento quindi nero su bianco inviato alla regione Campania ed è un report esaustivo e particolare fatta dalla locale azienda sanitaria. Cosa che noi a Torre del Greco non abbiamo mai ricevuto, quindi evidentemente ritenevano che forse a Torre del Greco non vi era alcun tipo di emergenza.